L'inizio della stagione estiva coincide anche con le operazioni di polizia intensificate per un'estate sicura. I recenti episodi sanguinosi legati al terrorismo ed il clima di tensione internazionale che ne consegue accentuano l'attenzione delle forze di polizia anche in concomitanza della chiusura delle scuole e l'aumento del flusso turistico sulle nostre coste, sul fronte della sicurezza stradale ma anche della prevenzione. Nei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Urbino hanno identificato oltre 120 persone e controllato 46 veicoli per verificare provenienza, generalità degli occupanti, stato dei mezzi e l'eventuale presenza di stupefacenti o strumenti da scasso. Ne scaturisce che 8 persone sono state denunciate all'autorità pubblica per diverse irregolarità legate a fermi amministrativi, patenti scadute e assenza di assicurazione. Il più grave episodio però risale a mercoledì dove un leccese di 20 anni è stato fermato in pieno giorno mentre si aggirava con fari minaccioso per strada sotto l'effetto di droghe con una spranga di ferro di diversi centimetri. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato dopo aver preso a sprangate una cassetta antincendio ed un cartello stradale. Ieri un quarantenne ed una ventenne del posto trovati in stato di ebrezza alla guida dell'auto e gli è stata ritirata anche la patente così come ad un trentenne del luogo trovato alla guida sotto l'effetto di stupefacenti. I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva.